è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 20